Avrebbero voluto manifestare per far sapere quali sono le loro richieste, semplicemente far sentire il loro grido di dolore. Non è stato possibile, la legge lo vieta, ma i commercianti ciociari, pur rispettando le regole, vogliono far sentire la loro voce. Quello che chiediamo noi è, che chiedavamo e che continuiamo a chiedere perché non ci arrenderemo, l'accollo da parte dello Stato dei nostri contatti di locazione commerciale. Io oggi, nella mia attività, ho accumulato 30.000 euro di debiti quasi, tra le utenze di casa e del negozio. Chiediamo la totale defiscalizzazione di tutti quegli oneri, IVA inclusa. Chiediamo poi un reddito, perché se io posso fare soltanto asporto e domicilio, e io voglio continuare a fare asporto e domicilio, io sto sentendo dei colleghi che lo fanno già da qualche giorno, ma incassano 100 euro al giorno, ma di incasso, non di guadagno, è cosa diversa. Con 100 euro al giorno io pago 3.400 euro al mese di IVA, più IVA di affitto. I conti sono presto fatti. Non chiedono di riaprire, anzi, loro vogliono rimanere chiusi per far sì che non ci siano occasioni di contagio, ma chiedono che le istituzioni possano farsi carico di questo blocco forzato, aiutandoli nell'ordinaria amministrazione. Si sta creando anche una spaccatura sociale, una differenza sociale tra chi invece aveva un reddito e gli è stato tolto per decreto e chi invece vive bontà sua di una situazione diversa dalla nostra, che però crea tensione dal punto di vista sociale. Ecco perché molta gente non capisce le nostre ragioni. Uno pare che noi vogliamo riaprire, è il contrario, noi vogliamo rimanere chiusi, ma voi ci dovete in questo momento sostenere. Non c'è nessuna categoria a cui è stato tolto il reddito per decreto, me ne dite una, ditemi una categoria alla quale è stata obbligata di non avere il reddito. Siamo l'unica categoria. Almeno a ridarci una volta, per una volta tanto, questo Stato ci eredesse quello che si è pigliato in anni della nostra attività. Una volta tanto ce lo doveva ridare, non ce lo sta ridando. Non è una questione di elemosina, ma semplicemente di metodo. Fin quando gli aiuti saranno uno strumento che potrà creare debito, quegli aiuti non potranno essere ricevuti dai commercianti. Io sono anche disposto a prenderli questi soldi come finanziamento, ma tu me li devi rendere totalmente deducibili, perché se io me li rendi totalmente deducibili, allora è come se mi stai dando liquidità, perché io me lo scaricherò sopra le tasse, non dell'anno prossimo, perché io non voglio pagare tasse fino al giugno del 2021, perché non le possiamo pagare, non abbiamo incasso. Quindi le cartelle e le tasse devono essere non sospese, cancellate, perché se tu me le sospendi e poi l'anno prossimo le ritrovi tutte insieme, stiamo da capa 12, allora tu me le cancelli, fai l'anno bianco fiscale. I soldi che tu mi presti con la garanzia statale, me li rendi deducibili dall'anno prossimo in poi, allora tu mi stai dando qualche cosa, altrimenti mi stai affossando.